Buongiorno Sigrino Maestro, oggi parliamo dei prodotti per una buona manutenzione dei capi all'interno dell'armadio dopo ritirati dalla lavanderia. Sono preparatissimo, diciamo che siamo alla Margherita del Pulito, uno dei due punti vendita, punti di assistenza alla lavanderia, uno dentro al centro commerciale Sette Ponti e uno a San Leo, questa già la sapevo. Bene, allora dopo aver lavato e ritirato i capi dalla lavanderia cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portarli a casa, togliere il cellofan, questa la so... Suggerimenti niente? No, non si può fare suggerimenti per telefono, grazie. No, ma i miei, erano i miei, mi hanno detto se ti trovi in difficoltà chiedi l'aiuto da casa, però dopo perdevo il monte premi e si porta la roba a casa, si toglie il cellofan perché il cellofan sembra che lo preservi, ma in realtà a lungo andare rovina il capo e si attacca sull'armadio. Franceschi? Questa la sapevo. Calmo, poi? Sono emozionato. E poi... Si, grazie. Posso ottenere un aiuto da casa. Si, jolly? Me lo dice lei, sigr maestro. Ma lei, Franceschi, è sempre il solito, sempre... Questa volta la mando al posto e le do solo un... La venga. Meglio un tre che un labrone. Da fitto mi davo sempre i labbroni. Allora, sicur maestro faccia una cosa, tenga qui, mi dedica a lei quel che devono fare con me. Io non vengo più a scuola. Naturalmente Leonardo questa volta si è un po' emozionato e ansioso, però... Allora, perché utilizzare i prodotti della Rampi per fare la manutenzione dell'armadio? Come diceva Leonardo nella sua interrogazione, che non è andata a buon fine, naturalmente, l'utilizzo dei prodotti, una volta tirato il capo e tolto il cellofan perché i tessuti devono respirare, all'interno dell'armadio ci sono sempre tanti piccoli insettini parassiti, c'è bisogno di, come dire, renderli in un ambiente poco favorevole e soprattutto, al di là di togliere questi piccoli insetti, che sono poi gli acri, che possono essere le tarme, tutto per allungare la vita dei vostri capi lavati, igienizzati e puliti. Leonardo, basta, dire la Rita sempre, ma che gli fai te la Rita? Alle donne, che gli fai, me lo dici? Io gli lavo i panni, te che gli fai?